La guerra in atto sarà il centro del prossimo incontro organizzato da Cittadini Liberi. Alessio, dove e a che ora si svolgerà questo appuntamento? Buongiorno a tutti, l'appuntamento si svolgerà a Baia Flaminia, campo di Marte, domenica 5 giugno, dalle ore 18 in poi. E chi interverrà al dibattito? Avremo diversi relatori, tra cui Mauro Murgia, ambasciatore dell'Ossezia del Sud in Italia, Davide Barillari, del Consiglio Regione Lazio, Davide Tutino, il professore di filosofia e storia, Andrea Bizzocchi, che poi è nostro autottono, scrittore, e Alessandro Leonardi, scrittore di controinformazione. Qual è l'obiettivo dell'iniziativa? L'obiettivo è cercare di dare una controinformazione sulle notizie del mainstream che purtroppo ci nascondono tante tante verità e aver individuato queste persone di un certo rilievo ci permetterà appunto di poter informare i cittadini e creare poi un vero e proprio dibattito. L'ingresso sarà libero? Assolutamente sì, è all'aperto, quindi lo spazio è disponibile per tutti, sia per chi la pensa come noi, ma soprattutto per chi non la pensa come noi, proprio perché vogliamo creare un confronto il più possibile costruttivo. Allora, l'iniziativa è libero insieme, è del terzo episodio e avremo poi dei piccoli interventi musicali perché appunto ce lo permettono. Il Comune su questo comunque ci sta dando una grossa mano perché abbiamo creato un buonissimo dialogo con loro e credo che sia un'occasione un po' per tutte le persone che ancora non si stanno rendendo conto di quello che effettivamente succede al di fuori del mainstream.